Sono molto orgoglioso che per il sesto anno consecutivo Acoma SGR vince il premio come miglior società di gestione small per il 2018. Questo orgoglio lo condivido con tutta la società, con il team di gestione, con tutti i dipendenti e ovviamente anche con i nostri collocatori e con i clienti che ci hanno dato estrema fiducia. Il 2018 è stato un anno molto difficile per i mercati finanziari e l'aver ottenuto questo risultato per il sesto anno consecutivo è motivo di maggior orgoglio. Una delle ragioni di questo successo è sicuramente da ricondurre al nostro metodo di gestione, alla persistenza e alla coerenza del modo di gestire e quindi anche se non sono stati anni particolarmente favorevoli per i gestori value come noi, il fatto di aver raggiunto questi risultati ci dà maggior soddisfazione. La metodologia con cui gestiamo e il fatto di seguire in maniera rigorosa questo metodo fa sì che questo tipo di risultati sia la ovvia conseguenza di un modo di poter gestire in maniera totalmente indipendente.